Nuova battuta d'arresto per il centro neurolesi di Contradaverga all'Ocri, che si ritrova nuovamente allo stremo delle forze. Infatti, nonostante gli aiuti dell'Unitalsi, l'associazione di volontariato che è stata chiamata a sopperire le carenze di personale, verificatesi al seguito del mancato rinnovo del contratto degli operatori dopo dieci anni di assistenza, la situazione è collassata. Un appello disperato è necessario perché alla luce di oggi ancora non è giunta nessuna risposta concreta da parte degli esponenti politici e, come se non bastasse, iniziano a mancare anche i beni di prima necessità. Al momento, il centro di Contradaverga ospita 18 neurolesi, 14 dei quali in carrozzina e affetti da patologie piuttosto gravi, e soli 6 medici, alcuni dei quali momentaneamente impossibilitate di esplicare le loro funzioni. Un grido d'aiuto che ancora una volta si diffonde con il fine di sensibilizzare quanti possono contribuire al cambiamento di questa triste realtà, diventato ormai insostenibile. Già da oggi il servizio dalle 7 alle 13 alle 14 è privo di infermieri e di osse, per cui non c'è nessuno che bada questi ragazzi. Quindi siamo rimasti solo io come dirigente medico e un serapista. Abbiamo né un infermiere né un osse per coprire la mattinata e questo succederà anche negli altri giorni, perché non riesco a coprire con due infermieri generici, due osse e un assoiliare tutti i turni di lavoro. Quindi nonostante i suoi appelli nessuno ancora è intervenuto? Nessuno è intervenuto ancora. Aspettiamo la dirigente, la direttrice del distretto che ci dia qualche disposizione e vediamo com'è. Che rischi ci sono? Cosa potrà succedere adesso? I rischi che i ragazzi, chiamiamoli ragazzi, sono persone da 38 in su, hanno bisogno di assistenza globale, voglio dire che devono essere imboccati, cambiati, lavati, coricati, insomma tutto, da qualunque. Quindi mancando tutta l'assistenza non hanno nessuna situazione valida per poter avere una vita normale, decente, accettabile, a livello igienico, sanitario, può succedere.